Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. È stato approvato dalla provincia di Pavia lo stanziamento di 13.000 euro per il cofinanziamento del progetto L'Albero Maestro per l'anno scolastico in corso. L'obiettivo è importantissimo, evitare la dispersione scolastica attraverso la prevenzione ed il contrasto. Per questo il progetto si rivolge agli adolescenti che abbandonano o che rischiano di lasciare la scuola secondaria in particolare durante il primo anno. Attraverso percorsi personalizzati, pensati per piccoli gruppi così da approfondire meglio le criticità del singolo studente svolti anche presso il centro servizi volontariato di Pavia si mira al riorientamento scolastico e lavorativo e ad un supporto motivazionale. Soddisfatta l'assessore della provincia di Pavia con delega alle politiche per lo sviluppo economico e alla formazione professionale Emanuela Marchiafava che ha definito l'Albero Maestro un'azione fondamentale per i ragazzi residenti nel Pavese che rischiano di non terminare la scuola dell'obbligo negli ultimi due anni. Un progetto consolidato, sottolinea Marchiafava, che potremmo definire collettivo e di rete con indici di successo che raggiungono il 100%. Il progetto, la cui realizzazione per quest'anno ammonta complessivamente a 62.780 euro è stato cofinanziato negli ultimi quattro anni dall'assessorato alla formazione della provincia in partnership con i tre piani di zona del Pavese. L'edizione in corso ha ottenuto anche il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lombardia che han contribuito con una donazione di 30.000 euro. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.